buongiorno amici e amiche di nova news 24 cataclisma sul grande fratello non solo la luzzi ma qualcun altro potrebbe uscire proprio in questa settimana si avvicina ovviamente il momento in cui i contratti scadevano ovviamente il 31 gennaio il prolungamento sulla durata del reality comincia a mietere le prime vittime e si parla ovviamente di qualcuno che uscirà ma andiamo con calma finita la nuova settimana ci ritroviamo a tirare le somme riguardo a quello che è successo in casa e non solo anche nel mese di gennaio che ormai volge al termine due ritiri si affacciano all'orizzonte due amici non parlano più per un litigio stiamo parlando di beatrice vittorio e nuove alleanze nascono all'improvviso vedi greta e perla ma attenzione perché sono alleanze ovviamente molto molto intelligenti come già screditato da beatrice luzzi intanto proprio quello che potrebbe succedere l'uscita di marco maddaloni che aveva un contratto chiaramente fino al 31 gennaio anche qualche altro che fino aveva il contratto fino al 31 gennaio e non gli è stato rinnovato potrebbe proprio essere marca ad uscire perché l'ha chiaramente detto in un in un video dove praticamente afferma che la sua permanenza il grande fratello probabilmente si fermerà qui amici di nuova news 24 anche beatrice luzzi probabilmente non vuole continuare diciamo probabilmente perché quelle che girano su internet non sono tutte notizie vere ma su marco maddaloni si sta dicendo di ogni che deve andare via che ha impegni che il suo contratto finisce insomma vedremo in realtà cosa succederà proprio domani sera domani sera alfonso signorini sarà costretto ad annunciare quello che succederà ai suoi gifini perché ovviamente siamo nella puntata del 29 gennaio e se il contratto scade il 31 non ha altre puntate per farlo quindi con le spalle al muro si capirà ovviamente il destino dei gifini coinvolti diteci cosa ne pensate se è piaciuto questo articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su nuova news 24